Come ogni anno il Presidente del TAR Campania illustra il lavoro, noi abbiamo sottolineato quanto sia importante il ruolo della giustizia amministrativa con la quale interloquiamo ogni giorno, in un momento storico in cui le leggi talvolta, certe volte anche frequentemente sono incomprensibili, prima ancora che difficilmente interpretabili, il ruolo della giurisprudenza diventa fondamentale, aggiungo due dati, l'importanza dell'autonomia e dell'indipendenza di tutte le magistrature, pilastro di uno Stato di diritto e che in questi momenti in particolare, sempre per la verità, ma in questi momenti in particolare di smarrimento anche valoriale, il faro rimane nella Costituzione Repubblicana, a cui sempre di più anche noi che amministriamo abbiamo come punto di riferimento anche nell'applicare sempre più stringentemente quelli che sono i principi fondamentali sanciti nella Costituzione della nostra Repubblica.